Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha scoperto un sistema di frode grazie al quale 215 persone hanno ottenuto illegitamente esenzioni dei ticket sanitari per un ammontare complessivo di oltre 55.000 euro in danno dell'Asa Napoli 3 Sud. Due donne elementi della truffa, entrambe di 50 anni e residenti a Torre Annunziata. Le stesse si facevano corrispondere a una provvigione fissa, per questo le due donne e gli indebiti precettori sono stati verbalizzati con sanzioni amministrative complessive per oltre 220.000 euro. In particolare i finanzieri della compagnia di Torre Annunziata hanno appurato che le stesse avevano ideato un consolidato stratagemma mediante il quale venivano creati con la presentazione di false dichiarazioni nuclei familiari fittizi al fine di consentire a soggetti che non ne avrebbero avuto diritto di beneficiare delle esenzioni per il pagamento dei ticket sanitari. In sostanza, coloro i quali risultavano avere un reddito individuale elevato venivano inseriti nei nuclei familiari composti ad hoc con persone indigenti, in modo da rientrare nelle categorie di beneficiari di detenzione.